Fanno ben sperare i primi dati della stagione turistica ad Auronzo. Con l'inizio della fase 3 sono molti turisti che hanno raggiunto la Val d'Anciei per trascorrere alcuni giorni di vacanza tra le Dolomiti. L'incertezza dettata dal Covid sta facendo sempre più spazio all'ottimismo. Già dal ponte del 2 giugno, diversi veniti che hanno scelto Auronzo come meta della prima scampagnata dopo il lockdown. Con la graduale riapertura poi, nello scorso weekend, sono arrivati anche gli stranieri, che hanno fatto registrare le stesse presenze del 2019. Numerose le telefonate che giungono allo IAT per prenotazioni e informazioni, anche grazie alla variegata offerta che il paese Cadorino può vantare. Oltre ad avere tre cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, i tre laghi di Santa Caterina, Misurina e Antorno, abbiamo anche una ciclabile molto bella di 30 km che da Auronzo va a Misurina, abbiamo il fanbob più lungo d'Europa nel comprensorio di Colagudo e moltissimi sentieri, molte passoggiate, ma anche cime come i cadini, come le marmarole adatte proprio per gli scalatori. Già da due anni nel Comune le presenze in estate si aggirano attorno alle 316 mila unità. Un trend in crescita con il turismo favorito anche dai numerosi eventi e dall'impegno dell'amministrazione comunale. Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha messo a bilancio per ogni anno quasi un milione di euro per sostenere i vari eventi, quest'anno purtroppo il calendario è tutto da riprogrammare visto l'emergenza Covid-19, alcuni eventi sono stati posticipati, ad esempio la gara internazionale di canoe che si doveva svolgere a fine giugno è stata spostata a fine settembre, è ancora in forse il ritiro della Lazio, stiamo attendendo una conferma per fine agosto, la seconda metà di agosto e sono invece confermati gli eventi culturali come Auronzo Aperta che è la seconda edizione del festival che l'anno scorso si è tenuto qui in Val d'Ansia e organizzato da Vito Vecelio e Francesca Casanova.